Lo slogan, i figli non si pagano, io da napoletano mi sono ricordato Filomena Marturano. Rumi e figli non sapavano. Ora, voi immaginate se quella commedia fosse stata scritta oggi. Non avrebbe senso, perché con la prova del DNA il padre avrebbe già scoperto chi era il figlio. La grandezza che noi dobbiamo conservare nelle tradizioni di un popolo come il nostro, che è millenario, dobbiamo avere l'orgoglio dell'appartenenza. La seconda sfida riguarda proprio la carta che secondo me non scomparirà. Perché? Perché fa comunità. Perché crea un sentimento di appartenenza all'ambiente sociale, culturale e geografico. I nostri giovani oggi non sanno più collocarsi nello spazio e nel tempo. Non interessa più niente, non interessa più la geografia, non interessa più la storia. C'è una localizzazione della carta che non avviene sulla rete. La rete è un ambiente soprattutto. Un ambiente virtuale, ma un ambiente. Sulla carta sei tu il direttore del linguaggio? Sei tu che controlli il linguaggio? Non è viceversa. Pensateci bene. Il linguaggio si muove nel pensiero, nell'aria, sullo schermo, ma non sulla carta. Noi ad esempio in Piemonte abbiamo i grandi santi sociali. Come voi sapete si festeggia quest'anno il 200esimo anniversario della nascita di Don Bosco. Santo sociale per eccellenza. Ma una schiera di santi. Il canonico alla mano, il murialdo, il cafasso. Erano santi sociali, sì, ma prima erano mistici. Don Bosco era un santo mistico. Don Bosco ha fatto tutto quello che ha fatto. Perché gli è apparsa la Madonna. E lui diceva che erano dei sogni. Ma non erano sogni. Gli era apparsa la Madonna. Ma lui prudentemente dice meglio che non divulghi troppo queste cose. Ma lui tutto quello che ha fatto gliel'ha suggerito la Madonna. E lui ha avuto la fede di seguire questo. E da lì poi il suo impulso di carattere sociale. Ma prima c'è il dato della fede. Questo noi dobbiamo testimoniare. Chiudo con una sola battuta per quanto riguarda il crocifisso. Tempo fa ebbe a che fare con una mia collega che, non so, poi si scopre questa Costituzione. Dipende da come si sveglia nella mattina. La Costituzione è ferma lì da mezzo secolo. Eppure puntualmente c'è qualcuno che ogni tanto, in virtù delle proprie pulsioni emozionali, la tira fuori. E questa collega ha deciso, in collegio di docenti, di far togliere tutti i crocifissi. Vabbè, il Preside non poteva essere attaccato sindacalmente. Tutte queste cose. Tolgono i crocifissi. Io e Padre Sannino, la notte, comprammo i crocifissi e li rimettiamo un'altra volta. Stanno ancora lì. Ma non perché vogliono una guerra, assolutamente. Non perché vogliono una guerra. Forse sono anche spropositato. Ma io mi sono scocciato di giustificare sempre le mie azioni a fronte di un diritto che gli altri vantano senza aver fatto un minimo di dovere. Grazie.